Musica Benvenuti a tutti, un cordiale saluto da Honor News, il telegiornale delle marche di UTVRS. Apriamo ancora con la cronaca ed alcune importanti operazioni antidroga. Tre persone di origini calabresi sono state arrestate ed un chilo e 300 grammi di cocaina divisi in 240 dosi sequestrati. E il bilancio di un blizzo operato dai carabinieri di Iesi, coadiuvati dal nucleo cinofilo di Pesaro, che nei pressi della stazione ferroviaria di Ancona hanno proceduto ad un controllo di un'auto con a bordo un 41enne ed un 32enne residenti in provincia di Reggio Calabria. L'attenzione dei militari è stata catturata da alcuni pacchi natalizi all'interno dei quali è stato rinvenuto lo stupefacente. L'attività investigativa poi è stata estesa ad una perquisizione domiciliare a carico di un altro calabrese, che ha portato alla scoperta di ulteriori 24 grammi di cocaina, anch'essi probabilmente destinati per le festività natalizie al mercato della Vallesina. E dopo 17 mesi di latitanze è stato arrestato dai carabinieri di Nova Feltria un 35enne albanese sorpreso nel sonno a Villa Grande di Monte Copiolo. Era ricercato dal maggio del 2018 nell'ambito dell'operazione Free Flight, volta a sgominare un traffico aereo di marijuana dal paese balcanico verso l'Italia. L'uomo viveva in un'abitazione bifamiliare insieme ad un connazionale ritenuto insospettabile. Nell'armadio della Camera sono state trovate tre confezioni di cellofan con 26 grammi complessivi di cocaina, denunciato per favoreggiamento anche il 49enne che lo ospitava. E nel nostro servizio di apertura una maxifrode scoperta dalla Guardia di Finanza. Vediamo. Incassano un milione e mezzo di euro da Regione Marche e da Prefettura di Macerata per l'accoglienza degli sfollati del sisma 2016 e per le forze dell'ordine impegnate nelle zone terremotate. Ma distraggono oltre un milione di euro, usandone circa 500 mila per comprare 51 lingotti d'oro puro del peso complessivo di circa 13 chilogrammi. E poi dichiarano bancarotta. È il quadro, delineato dalla Guardia di Finanza della tenenza di Camerino, che ha concluso un'indagine di Polizia Economico-Finanziaria e Giudiziaria coordinata dal procuratore di Macerata Giovanni Giorgio dal sostituto Vincenzo Carusi nei confronti di una struttura alberghiera piuttosto nota, l'hotel 77 di Tolentino. Cinque gli indagati tra soci e amministratori della società titolare dell'albergo racchiuso, sequestrate disponibilità finanziarie e 19 dei 51 lingotti che tra l'altro hanno dato il nome all'indagine Eldorado. Nel 2016 e nel 2017 i titolari non avrebbero neanche presentato dichiarazione dei redditi o per l'IVA. Le indagini sono partite dall'inchiesta sulle indebite percezioni del contributo autonoma sistemazione. Tra le 80 e le 90 persone venivano ospitate quotidianamente nella struttura. San Biagio, popolosa frazione di Osimo, è stata messa a soquadro dai ladri che mercoledì scorso hanno preso di mira la zona tra Via D'Annunzio e Via Pascoli nel tardo pomeriggio, approfittando delle prime ore di buio. Almeno sei furti compiuti in altrettanti appartamenti ed i carabinieri sospettano che si possa trattare di un'organizzazione malavitosa pendolare i cui componenti potrebbero venire dall'est Europa. Gli agenti della squadra mobile di Ancona hanno sorpreso e denunciato un ladro seriale indiziato come responsabile di diversi furti commessi nelle ultime settimane ai danni di una clinica di Ancona dove lavorava come addetto alle pulizie. L'uomo, per motivi di servizio, aveva le chiavi dell'ambulatorio ed approfittando del suo incarico era solito svuotare le casse delle prestazioni. Dopo aver sottratto circa 400 euro, il 32enne è stato bloccato e la somma successivamente riconsegnata alla vente diritto. E cambiamo argomento, la Regione Marche avvia la fase operativa del servizio di banda ultralarga in un piccolo comune, Montalto, nel Piceno. Vediamo il servizio di Manoli Tascocco. Un sereno, felice e tecnologico Natale è quello che il Presidente della Regione, Luca Ceriscioli, ha augurato a tutti da Montalto delle Marche dove è stata ufficialmente avviata la fase operativa del servizio di banda ultralarga. Sì, è la prima accensione, è un grande progetto quello di portare la banda ultralarga in tutto il territorio regionale. Montalto rappresenta bene quelle zone che senza l'aiuto pubblico, senza quei 100 milioni fra strato e regione non avrebbero mai potuto godere di questo servizio. L'appuntamento è stato organizzato nella palestra dell'Istituto Scolastico Comprensivo della cittadina dell'entroterra della provincia di Ascoli, diventando così la prima scuola in assoluto nelle aree bianche in Italia, quelle cioè fuori mercato, dove l'operatore privato non sarebbe mai intervenuto a collegarsi alla rete Bull, la rete della banda ultralarga, il cui concessionario in questo caso è Open Fiber, mentre l'operatore è Fidoca. Siamo il primo comune della regione Marche ad attivare la spedentazione della banda ultralarga, ma siamo il primo comune in Italia, nelle zone bianche, nelle aree bianche, ad attivarla in una scuola pubblica. Questo per noi è un motivo di grande orgoglio, è frutto di un lavoro costante, abbiamo creduto fin dall'inizio a questo progetto, oggi siamo veramente felici di festeggiare qui questa partenza, questo inizio. Giornata importante, quella di domani, sabato per Macerata, alle 11 verrà inaugurato il nuovo campus scolastico, sorto nell'area dell'ex Casermettine Via Roma, e che ospiterà oltre 900 ragazzi, provenienti in gran parte dalle ex scuole medie Dante Alighieri e Mestica. Alla cerimonia dal taglio del nastro parteciperà anche il ministro per le infrastrutture e i trasporti, Paola De Micheli. Potranno essere presentate entro il 31 dicembre 2020 le schede Aedes per rilevare i danni, definire misure di pronto intervento e valutare l'agibilità post-sismica, ancora da periziare e i professionisti potranno farlo anche insieme al progetto. Proroga a fine 2020 anche per i progetti delle attività produttive, è prevista un'anticipazione sull'erogazione del contributo laddove sia necessaria la delocalizzazione. Sono alcune novità previste in quattro nuove ordinanze approvate nella cabina di coordinamento guidata da Piero Farabollini, commissario alla ricostruzione post-sisma. Ed ora ci occupiamo di un problema spesso sottovalutato, quello della sicurezza delle nostre caldaie. Sentiamo. C'è una legge, la 10 del 1991, che stabilisce che i comuni con più di 40.000 abitanti e le province, per la restante parte del territorio, debbano effettuare i controlli relativi al rendimento di combustione degli impianti termici e poi verificare, alle cadenze stabilite, l'osservanza delle norme, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica. La provincia di Ancona e il comune di Ancona, avendo una popolazione superiore a 40.000 abitanti, sono identificate come autorità competente. Dal 2017, con delibera del Consiglio Comunale, è stato poi approvato l'affidamento del servizio di controllo e ispezione degli impianti termici nel territorio provinciale di Ancona, ad eccezione dei comuni di Iesi e Senigallia, e nel comune di Ancona, alla società MP Mobilità Parcheggi S.P.A., che assume pertanto il ruolo di soggetto esecutore. Ma non è solo una questione di legge, così come ci ha spiegato l'amministratore unico di MP, Erminio Copparo. In effetti, avere una caldaia, ma direi tutto l'impianto di riscaldamento sicuro in casa, è un'esigenza, tra l'altro, regolamentata dalla legge. Quindi bisogna essere a posto con l'attività di manutenzione della propria caldaia, le diverse prove che si debbono fare a scadenze periodiche, previste dalla legge regionale che disciplina questa materia, e tutto questo lo si fa fidandosi al proprio manutentore di fiducia. Quindi noi consigliamo, parlate con il vostro manutentore di fiducia, chiedete se siete in regola con la normativa prevista e quindi affidatevi a lui. Ma è solo una questione di legge? Cioè un altro balzello, un altro aspetto burocratico da fare per forza? No, assolutamente non è solo una questione di legge, ma consigliamo vivamente di far controllare la propria caldaia, perché è una questione innanzitutto di sicurezza. Una caldaia inefficiente crea problemi di salute, addirittura che possono portare a estreme conseguenze, ma poi è anche una questione di portafoglio, perché una caldaia efficiente ovviamente permette di risparmiare sulla bolletta del gas. In ultimo, di moda più che mai in questi giorni, è una questione di ambiente. Ecco, una caldaia efficiente, ben manutenuta e controllata nel rispetto della norma e di quanto prevede il produttore proprio della caldaia, ovviamente inquina meno e questo ne abbiamo bisogno tutti. E siamo alla pagina sportiva di oggi con la presentazione dei principali avvenimenti agonistici del weekend. Nel calcio ricordiamo che la Serie C sarà per la protesta sulla mancata defiscalizzazione ai box, date possibili per recuperare la prima di ritorno il 15 e il 22 gennaio. In Serie Cadette invece l'Ascoli è atteso domenica alle 21 da una partita di cartello ad Udine contro il Pordenone, dirigerà Simone Sozza di Seregno, esordiente in Serie B. Zanetti sta nel frattempo recuperando alcuni dei suoi uomini. Ci sarà senz'altro Brosco, tenuto a riposo ad inizio settimana, solo precauzionalmente con da Cruz rientrato nel gruppo, anche se non è certo il suo impiego nell'undici titolare. Se ne sapranno di più domani al termine della rifinitura. Vediamo comunque il quadro degli appuntamenti previsti in Serie D ed in eccellenza. Re Canatese e Matelica, derby di tradizione piuttosto recente, ma con le due squadre rivise da indiscutibile rivalità, è senza dubbio il match-clou dell'ultima diandata di Serie D. È una sorta di finale per decretare l'anti-notaresco con gli abruzzesi che viaggiano a ritmi insostenibili per tutti e sono a più 10 dai giallorossi. Chi perde è virtualmente out dalla lotta per il primo posto, perché oggettivamente si può immaginare un calo degli uomini di Vagnoni, ma non un crollo. Le due squadre arrivano in condizioni diverse a questa gara, quasi opposte. La Re Canatese con il fardello dei troppi gol subiti, addirittura 12 nelle ultime quattro partite, ed inoltre con il forfè del bomber Pera, nettamente primo nella classifica cannoniere, con 15 reti di senigalliesi, eppure con Titone non al meglio. Il Matelica invece è reduce da quattro vittorie consecutive dopo molti alti e bassi, viaggia a gonfie vele e con il morale a mille. Sarà giornata giallorossa al Tubaldi, anticipo da brividi domani a Civitanova, tra la San Giustese che in settimana ha ufficializzato l'arrivo della punta Alex Bonaventura e la Iesina senza De Lucia, che condivide l'ultimo posto con il Cattolica San Marino, ed è inutile ribadire che la posta in palio conterà davvero doppio. Tra le mura amiche anche lo straordinario Montegiorgio, attualmente quarto, contro la Vastese ricca di stelle ed assolutamente temibile. Trasferti impegnativi invece sia per il Tolentino a Giulianova con i Cremisi che oggi hanno ufficializzato il centrocampista Maresca, che per il Porto Sant'Elpidio ad Agnone, anche se i molisani accusano diverse importanti assenze. In eccellenza invece fa ripuntati sullo scontro diretto di domani al Ciarrocchi tra Porto D'Ascoli ed Atletico Gallo col Bordolo, con pagini divise da cinque punti in classifica. Duro ostacolo per la sorprendente Forsempronese sul campo dell'Atletico Alma, mentre l'Anconitana ha la possibilità di accorciare le distanze in classifica ricevendo il Marina, da seguire Vigo Senigallia-Montefano e Castelfidardo-Valdichienti-Ponte. Nel basket non ci sono termini diversi da ultima spiaggia per descrivere la gara della Carpegna-Prosciutto-Pesaro domenica alle 12 a Pistoia. La VL ha uno score eloquente, zero vittorie su 12 partite e per i ragazzi di Giancarlo Sacco per continuare a coltivare qualche piccola speranza di salvezza non ci sono davvero alternativa alla vittoria, altrimenti la stagione può dirsi virtualmente conclusa. Prima di ritorno in Serie A2 per la XL Extra Light Montegranaro ci sarà l'impegno al Palasavelli di Porto San Giorgio contro Imola con i Romagnoli che hanno attualmente quattro punti in più in classifica dei gialloblu che presenteranno comunque il nuovo arrivo Riccardo Cortese. Giornata molto interessante in Serie B con lo storico derby Iesi Fabriano che ritorna ma anche con Ancona-Sutor-Montegranaro mentre la Rossella-Civitanova sarà a Dozzano e vediamo ora le previsioni meteo per sabato 21 dicembre. L'insidioso vortice di maltempo che ha portato un intenso peggioramento al nord si sposta verso le nostre regioni centro-meridionali. Spostiamoci ora al centro, qui il tempo risulterà spiccatamente instabile sulla Toscana, sull'Umbria, sul Lazio e sui rilievi molisani. Più asciutto sul resto del versante adriatico. Sulla Sardegna avremo qualche pioggia alternata a Schiarite. Di notte i valori toccheranno punte minime di 0 gradi e non supereranno i 16 gradi su tutta l'Italia. Durante il giorno attendiamo invece fino a 14 gradi al nord, punte di 18 gradi al centro e fino a 17 gradi sulle regioni meridionali. Bene, per ora abbiamo terminato. Per ulteriori aggiornamenti e dettagli visitate le nostre pagine ufficiali di Facebook e di Instagram e il nostro sito ilmeteo.it dove la Il fa la differenza. Arrivederci. Nella pallavolo, secondo successo su altrettanti incontri in Champions League per la Lube che ieri si è imposta 3-1 ad Istanbul contro il Fenerbahce al termine dell'ennesima gara di carattere e di orgoglio dei campioni del mondo in carica il cui cammino proseguirà con l'ennesima trasferta di questo mese di dicembre a Trento per il recupero della giornata di Superlega. Senza Gaffur e con Bruno a riposo in luce, ancora una volta Leal con 15 punti e 5 ace. Doppia gara a busto arzizio per le nostre squadre femminili. La Lardini-Filottrano affronterà la compagine seconda in classifica in A1 in un match chiaramente dall'altissimo coefficiente di difficoltà. Alla stessa ora in A2 la Roana cerca il riscatto dopo il capitombolo casalingo contro Montecchio Maggiore. Di A3 maschile parleremo diffusamente nel corso dell'appuntamento con il volle di Spiker con Massimiliano Hortensi e Stefano Giannotti della Videx Grotta Zolina che cercherà ad Alessano di conquistare la nona vittoria consecutiva mentre la Mengishus attende a Macerata l'insidiosa squadra calabrese del Corigliano. Con questo è davvero tutto per il nostro telegiornale. Grazie per la cortese. Attenzione e buon fine settimana. Grazie per la visione! Grazie per la visione!